Ciao a tutti, non ti risponde, fa bolire nel suo brodo e torna ciclicamente. Allora, se una persona non ti risponde ai messaggi, non ti risponde magari a qualche chiamata così, devi fottertene, devi viverlo come un gioco, e quindi lo lasci stare nel suo brodo, no? Non lo chiami più, esci con altri, esci con altri, fai gli affari tuoi, insomma, e ciclicamente ti dai un appuntamento, diciamo, grossomodo ogni mese e mezzo, più o meno, due mesi, ma di nuovo riprovi, ritenti, perché se non ti risponde, che succede? Non ti risponde perché può avere, può stare con un altro, può stare in un'altra situazione, può avere i cavoli suoi, magari in quel momento lì non gli interessi, però gutta, cavat, plava, vuol dire che se ogni tanto tu butti un seme, lo beccherai o la beccherai in un momento di debolezza, lo beccherai o la beccherai in un momento in cui si sente sola o si sente solo, in cui magari è stata lasciata o è stato lasciato, in cui ha una fragilità, in cui ha bisogno, insomma, di un supporto, di qualcosa, allora è fatta ciclicamente, vedrai che lo cucchi e allora a quel punto lì sarà disponibile, allora a quel punto lì potrai iniziare, diciamo, a mettere i vincoli, a mettere delle condizioni, insomma, a fare tutte le cose che vanno fatte per riuscire a conquistare, a sedurre. L'importante è che quando non ti rispondono stai lì a insistere, perché allora metti proprio sulle difensive, provi una volta, mandi un messaggio, una cosa, non ti risponde, sparisci per almeno un paio di mesi, una roba del genere, insomma, ovviamente superare 21 giorni, almeno 21 giorni non passare, però di solito conviene far passare un po' di più e riprovi, mandi un altro messaggio test, un'altra cosa test e vedi, e guarda che capiterà, magari nel frattempo ovviamente tu ti fai gli affari tuoi, quel punto lì deve diventare soltanto, come dire, una questione di principio, riuscire nella conquista, soltanto per principio, non per starci poi con questa persona, soltanto per principio, e tu insisti, magari, che ne so, ci sono casi in cui ci può volere sette anni, otto anni, e poi dopo riesci a coinvolgere, basta avere pazienza e non essere ossessivi, lasciare il tempo al tempo e trovare il momento di debolezza, e allora riesci a insinuarti, riesci a conquistare, riesci a sedurre, ma la cosa da evitare, tassativamente, come la peste di fare, è insistere, è continuare a... perché quello è veramente, allora ti bruci ogni possibilità futura, manco morto o morta poi proverà ad uscire con te, non c'è niente da fare. Bene! L'importante è viverti tutto come un gioco, per questo video è tutto, iscriviti al canale, lascia un commento qua sotto, condividi questo video, e ci vediamo al prossimo video, ciao!